Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse ancora sono Alessio Rovere, sono un ricercatore universitario e faccio ricerca sui livelli del mare passati, presenti e futuri e su quello che potrebbe succedere alle nostre coste con il cambiamento climatico. Ho hackerato con il benestare del presidente le stories del canale Instagram dei Sons of the Ocean semplicemente per darvi un piccolo teaser. Io domani sono in partenza per Singapore dove si terrà una conferenza molto importante che parlerà di cambiamenti del livello del mare, si chiama World Climate Research Council, è un'associazione che è anche sponsorizzata dall'UNESCO e in pratica centinaia di ricercatori che studiano proprio i cambiamenti del livello del mare si riuniranno e cercheranno di fare il punto della situazione. Ecco, io sarò una di quelle centinaia di ricercatori, farò anche una presentazione di alcune cose che abbiamo fatto durante questi anni. Io sono molto molto contento di riuscire ad andare a Singapore, è la prima volta dopo il Covid che ci riuniamo di nuovo, vedrò tanti colleghi che sono diventati negli anni tanti amici. Abbiamo pensato che poteva essere interessante magari ogni giorno lasciare una piccola stories a voi, magari un paio di video, giusto per dirvi quello che ho imparato. Sono cose che sono presentate alla conferenza, magari l'articolo che le spiega verrà fuori tra un anno, un anno e mezzo. Quindi voi di Soundsoft The Ocean, grazie a me che vi farò da tramite, le riceverete un anno prima di quando saranno ricevute dal resto della comunità. Speriamo che questo vi piaccia. Io spero di riuscire a rendere giustizia a quello che verrà detto e spero di trasmettervi un po' dell'entusiasmo che ho anch'io nel fare quello che stiamo facendo, cioè cercare di capire a fondo e di trovare le soluzioni al cambiamento del livello del mare. Quindi se avete voglia metteteci un like alle stories, seguite i canali di Soundsoft The Ocean perché solo qui potrete vedere quello che si dirà a Singapore durante la prossima settimana. Ciao a tutti!